Ciao a tutti! In questo vigneto di Merlot al primo anno di vegetazione ho trovato alcune piante poco sviluppate e con foglie completamente rosse, come quella che potete vedere al mio fianco. Che si tratti di flavescenza dorata? In questo video scopriremo la causa di questi sintomi. I sintomi non sono quelli della flavescenza dorata e del legno nero, perché l'arrossamento interessa anche le nervature, le foglie non sono deformate e la dignificazione del tralcio risulta essere buona. A questo punto farei una verifica del punto d'innesto. Come avete potuto vedere ho rotto la pianta senza nessuna fatica. La problematica, come abbiamo visto, è dovuta ad un attecchimento parziale dell'innesto, che può essere causata sia da fattori biotici che abiotici. Le piante con questi sintomi, a prescindere dalla causa, vanno comunque estirpate. Se pensi che il video ti sia stato utile lasciami un like. Ciao e alla prossima!